Il nuovo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Cremona, Alessandro Di Filippo, proviene da Firenze, dove andrà il tenente colonnello Salvatore Maria Martino, dopo due anni caratterizzati da importanti indagini svolte a tutela della legalità economica della provincia cremonese. Trovo un reparto molto dinamico, molto attivo, che ha portato avanti diverse attività e ha conseguito diversi risultati operativi in diversi settori, nell'ambito fiscale o anche delle indagini di polizia giudiziaria, a volte tutelare l'economia legale e contrastare il sommerso e l'economia illegale, che danneggia gli imprenditori onesti. Le sue priorità saranno in linea con quelle del suo predecessore. Proseguire l'attività che ha svolto il mio predecessore, il mio collega, il tenente colonnello Salvatore Martino, cerca di proseguire proficuamente e sempre più proficuamente le attività che sono in corso e laddove è possibile avviarne altre e cercare di ambire risultati anche più ampi.